Un anno dell'amministrazione Costa, lei è soddisfatto? Diciamo al 60% Rispetto a quello che è successo prima, sì. Mi auguro che continui così e che vede realmente il bisogno della città, perché siamo nello sfascio completo. Sono molto contento perché in appena 12 mesi ha fatto tanto, pensando a un comune disastrato a livello economico, è una gestione pessima, almeno negli ultimi 40 anni. Lo ringrazio e lo vincito certamente a fare meglio, perché può fare meglio. Sul fronte dell'apparato burocratico, questa rivoluzione che aveva promesso? Qui c'è una nota dolente, perché tutti ci aspettevamo qualcosa in più. Qualcosa rispetto a prima è stato fatto, non molto, ci dovrebbe fare ancora di più probabilmente, però insomma, tutto sommato diamo un 6 via. Potremmo essere ancora più soddisfatti se risolverebbe il fatto dell'acqua, perché l'acqua è una priorità. Vorrei che la politica fosse solo volontariato. Mi rispondo, nemmeno campacavallo, campaciuccio che l'erba cresce. Con questo dico tutto.